Un allenatore di vecchio stampo, dall'antica, per me oggi è un giorno triste perché viene a mancare una persona di cui mi ha dato molto, umanamente e soprattutto mi ha dato la possibilità di farmi diventare qualcuno, internazionale, grazie, grazie veramente, senza di lui sicuramente non sarei arrivato a farmi conoscere così, per me è stata una persona di straordinaria importanza, per me va via una parte dentro di me, consigli che mi ha dato, che era quello di sfruttare questa occasione, che sarebbe stata importante e ho preso dei consigli, senza un allenatore che non metteva mai pressione, ansia, un amicone.